Grandi manovre in vista delle elezioni amministrative che si terranno in autunno a Torianova. Dopo le prime voci ufficiose arrivano le prime candidature ufficiali alla carica di sindaco. Dopo quella di Giuseppe Ricoli che proprio ieri ha di fatto confermato attraverso i social network, in questo caso Facebook, la sua intenzione di candidarsi e co-oggi viene ufficializzato un altro nome, quello dell'ingegnere Fabio Scionti, presidente della consulta delle associazioni. A sceglierlo la coalizione che vede schierati il Partito Democratico, l'Udc, a testa alta, il Comitato Civico Pro-Taurianova e Impresa Calabria, Riparte il Sud e Torianova Democratica. La stessa coalizione aveva annunciato l'intenzione di ricorrere alle primarie per permettere agli elettori di scegliere il proprio candidato. Ma a pochi giorni di distanza Luigi Mamone a testa alta, Francesco Forestieri del Comitato Civico Pro-Taurianova e Fausto Sicleri per Impresa Calabria, Maurizio Cannata per il Partito Democratico e Vincenzo Borgese per Torianova Democratica e Antonello Lucisano Riparte il Sud e Salvatore Leva dell'Udc hanno invece deciso di fare tutto da soli. La candidatura di Fabio Scionti verrà ufficializzata oggi, durante una conferenza stampa che si terrà alle 15.30 nella sede di Approdo News. Alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Nicolai Irto e del suo Vice Francesco D'Agostino del Capogruppo del PD alla Regione Sebi Romeo. A presentare Scionti sarà Luigi Mamone che in un primo momento sembrava essere proprio lui l'uomo da schierare. Al momento sono quindi quattro i candidati ufficiali e lo scranno più alto del Comune di Torianova. Fabio Scionti per il centro-sinistra, l'ex consigliere comunale di opposizione Giuseppe Rigoli, l'ex sindaco di Torianova Roy Biasi e Michele Gullace, leader del Comitato Civico Permanente. Tra i nomi che circolano senza trovare però ancora conferma sono quelli del commercialista Filippo Speranza, del maestro Cettina Nicolosi, ex consigliere comunale di Cinque Frondi, e dei medici Domenico Amuso e Giuseppe Macri.